No, è solo una cosa voglio dire, lei è della sicurezza esatto, io un lavoro di dargli calci così è una cosa vergognosa, abbiamo visto tutti quanti, addirittura c'è stato uno che ha fatto pure il video, te lo dico Ah si non hai picchiato nessuno e cosa stai facendo in questo video, stai giocando a calcio? E meno male che ti ho ripreso mentre sei stato addirittura tu il primo a far partire il primo calcio e dopo i tuoi amichetti si sono aggiunti, è giusto che tu da sicurezza faccia il tuo lavoro e prendi tutti quelli che rubino, ma è sbagliato usare il tuo potere e la tua divisa per picchiarlo e malmenarlo, perché puoi aver fatto qualsiasi tipo di reato dentro il tuo supermercato, ma ci pensano le forze dell'ordine a punire non tu picchiandolo